Se il 19 giugno è passato la storia per essere la data di approvazione dell'autonomia, il 26 giugno è sicuramente una data storica perché è il giorno nel quale il Presidente Mattarella ha firmato, quindi promulgato la legge dell'autonomia. Adesso attenderemo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per poi chiedere di ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla Costituzione.